Oh, forse, forse l'assimilante! Come fa ad apparirmi sempre davanti? Ti prego, ti prego, non tormentarmi! Oh, Lagrange! Guarda come ti sei fatto ridurre da quel ragazzino! Oh, se solo potessi strappargli l'orologio da quel misero porso che si ritrova! Lagrange, ora dati un contegno! Chi ha parlato? Puoi chiamarmi Cavaliere Immortale? Che cosa vuoi? La domanda, Lagrange, è cosa vuoi tu? Wow, che macchine fantastiche! E questa è la più tosta di tutte! Sono contento che apprezzi! Hai ragione, questa bambina è un vero schianto, ragazzo mio! Il suo linguaggio ha distrutto la magia! Oggi assisterete a un grande evento! Questa è una gara unica e speciale, sponsorizzata da un'azienda misteriosa chiamata Galahad! Non sappiamo quale sarà il premio, è una sorpresa, un postone nella loro squadra, oppure un viaggio su uno shuttle lunare! Sarà una gara così... Tutto bene? Sì, sto bene! È solo una brutta allergia... Ecco! Vi mostro il percorso! Si inizia con un rettilineo... Poi c'è la strada del serpente... Che termina i picchi telescopici! Attenti al coniglio, dico sul serio, bisogna stare molto attenti a... E alla fine si scende verso il traguardo! Piloti, raggiungete tutti la linea di partenza! Bene, in quel tutti ci sono anch'io! Sei sicuro di stare bene? Ma è stato meglio! Io non credo che tu possa guidare! Ehi! E se partecipassi al posto suo? XLR8 farà mangiare la sabbia a tutti quanti! Sul serio, lo faccio per Phil! Ok, solo se lo fai per Phil! Sì! È bello rivederti, ma oggi non vincerai niente! Ehi! Quel giorno alla grande muraglia cinese abbiamo collaborato! Noi dovremmo essere amici, non credi? Quando si corre non esistono amici! C'è solo la famiglia! Anch'io ho una famiglia, Vin! Eccola qui! Questo lo rispetto! Piloti! Scaldate i vostri motori! Odd-Odd del deserto! Provategli Odd-Odd del deserto! Che avranno messo in questi cosi? Se non lo sai, perché l'hai comprato? Lascia stare! Con XLR8 gli altri piloti faranno un bel dotto! Che sta succedendo? Perché non funziona? Ma che è successo? Bene, bene! Solo lui poteva darmi questo a Gesho, eh? Un dispositivo capace di neutralizzare a distanza il tuo alieno più veloce! Ehi! Non vale! Pronti? Via! Ah, per favore! Per favore! Diamanti! No, così non va bene! No, così non va bene! Torno fu a febbi! Grazie a tutti.